Lasciate stare il senatore Rossi, all'embarata, per favore, per favore, per favore. Non ti voglio, non ti voglio, tu sei un fracassato, un pezzo di merda. Siete amici di Craxi voi, siete amici di Craxi voi, eh? Pezzo di merda. Avete salvato un vaffioso? Perché si sapeva cantare la faccia? Eh così è. Ma non vi togliamo. Visto che richiama evocate tanto la libertà di pensiero, sarò liberissimo di esprimervi in questi termini? Beh, mica tanto. Ai 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 ai! La libertà! E chi dà informazione ha un dovere. E' un dovere che è quello di ricordare che il coordinamento 15 ottobre curerà le caratteristiche, la logistica e l'organizzazione della manifestazione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Ehi tu, che cosa credi di fare? Vado a spegnere l'incendio! Con una goccia d'acqua? Io faccio la mia parte. Io faccio la mia parte. Grazie a tutti.